13 maggio, il giornale, aspettative superate, Fitch gela i gufi rossi antimeloni, la crescita dell'economia italiana ha superato le aspettative. Oh, è importante però che non dici cazzate. 1 giugno, libero, la resa dei gufi, l'economia italiana corre più di tutti, ci applaude perfino Moody's. 2 giugno, la verità, lavoro e pil vanno su, il governo può sorridere. 7 giugno, di nuovo libero, questa volta ancora più garoso, titolone a 5 colonne in primissima pagina. Gufi, arrendetevi, l'Italia è ripartita. 20 giugno, sito dell'Ansa, Urso, l'Italia adesso è la locomotiva d'Europa. Insomma, primo agosto, poco più di un mese dopo, il giornale, estate amara, meno 0,3%, l'Italia ingrana la retromarcia. Libero, nel secondo trimestre l'Italia rallenta, meno 0,3%, la verità, brusco calo nel secondo trimestre, meno 0,3%. Affidare le sorti dell'economia italiana alla destra reazionaria dei fintosofranisti e dei veri amici dei prenditori straccioni ed evasori in questa epoca di catastrofico declino di tutto il nord globale è un po' come affidare a me la panchina del Manchester City in finale di Champions con mezzo spogliatoio decimato dal Covid. Sta andando tutto male, sta andando tutto male. Ma cosa sarà mai successo di così imprevedibile per trasformare il trionfalismo di appena un mese fa nei titoloni listati a lutto della propaganda meloniana di ieri? La propaganda suprematista filogovernativa è così prolifica e fantasiosa che selezionare le chicche più succulenti è sempre complicato. Ma quando qualcuno si distingue dalla media è il nostro compito di divulgatori individuarlo e valorizzarlo. È il caso di questo articolo assolutamente geniale pubblicato il 2 giugno scorso dal Quotidiano del Sud e affirma Antonio Troise, il mio nuovo eroe. Tutti i numeri del miracolo italiano che smentiscono Gufi e Cassandre, si intitolava. Nell'occhiello Troise fa lo spavaldo. Come il nostro giornale ha ripetuto per mesi quando tutti vedevano nero, scrive, l'azienda Italia continua a correre imperturbabile per la sua strada inanellando risultati record che oggi la rendono la vera locomotiva d'Europa. Questa capacità premonitrice, ci spiega Troise, è data dal fatto che si sarebbe tenuto lontano dalle previsioni catastrofiste dei professoroni dei think tank e invece si sarebbe sporcato le mani cercando di frequentare direttamente gli stabilimenti che, dichiara, dopo la pausa del Covid hanno subito cominciato a spingere al massimo gli impianti, conquistando nuove fette di mercato all'estero. Ora, se Troise l'ha scritto perché ci aveva da farsi rimborsare delle note spese giustificate con la visita agli stabilimenti, mentre in realtà era più che giustamente a spassarsela con qualche spasimante ha tutta la nostra solidarietà, altrimenti è un po' gravino, a meno che per stabilimenti, giustamente, Troise non intendesse quelli balneari. Come vi abbiamo già raccontato enne mila volte, infatti quella piccola e insignificante tenuta del nostro PIL, registrata nei mesi passati, era in buona parte legata ai servizi e soprattutto al turismo, e cioè a un'economia che la ricchezza la distrugge più che crearla, tra concessioni clientelari, lavoro al nero, evasione fiscale e devastazione ambientale. D'altronde è l'unica politica industriale messa in campo dal governo del Tuiga, tra regalini agli evasori, allargamento del precariato, indebolimento dei controlli, rifiuto del salario minimo e abolizione del reddito di cittadinanza, che per lo zoccolo duro dell'elettorato finto sovranista rappresentano insostenibile forma di concorrenza rispetto agli spiccioli che offrono per tenere alta la bandiera della gastronomia italica. Infatti, come avevamo anticipato ieri, una frenata, oltre i titoli della propaganda, era più che attesa. Peccato sia stata decisamente peggiore delle attese. Contro la previsione di un misero più 0,1% nel secondo trimestre, infatti ieri l'Istat ha certificato un bel meno 0,3. La doccia, inutile girarci attorno, scriveva ieri il sole 24 ore, è di quelle ghiacciate. Un cambio di rotta drastico, continua l'articolo, che fa cadere l'idea che la crescita del turismo possa compensare la flessione dell'industria. Ma te guarda, uno scoop dietro l'altro proprio. Calo a sorpresa del PIL, titolava ieri il corriere. E meno male che questi sono quelli studiati. Che la sorpresa sia tale solo per chi vive nel mondo delle pete candite, le pete candite, lo dichiara chiaramente Barbara Colombo, la presidente dell'Associazione dei Produttori di Macchine Utensili. Ce lo aspettavamo, ha dichiarato, nel primo semestre dell'anno abbiamo registrato un calo degli ordini del 23%, non esattamente bruscolini. La solidarietà del nord globale non ha retto la prova dello scontro di civiltà. Gli ordini dall'estero di macchine utensili italiane sono calati del 18%. Si vede che gli imprenditori di Mezzomondo hanno disdetto l'abbonamento al foglio e hanno cominciato a fare di testa loro. Un risultato davvero imprevedibile. Ma quello che fa ancora più impressione in realtà è il mercato interno. Sempre rimanendo agli ordini di macchinari utensili, un drammatico meno 29%. Strano, eh? Com'è che gli imprenditori italici hanno smesso di avere fiducia nelle sorti progressive del governo degli svendi patrioti? La propaganda di governo non ha dubbi. I tassi della BCE azzoppano il PIL, titolava ieri il giornale. La Lagarde ci ha rotto il PIL, rilanciava sarcastico Libero. Ovviamente non hanno tutti i torti. C'è una cosa però che non ho capito. I tassi, la BCE, li ha alzati tutti adesso di botto? Dove erano gli aumenti dei tassi quando un mese fa, di fronte alla prospettiva della crescita del PIL, di un portentoso 1%, gridavano entusiasti al miracolo economico italiano? Misteri della fede finto sovranista. Ma quella finto sovranista non è l'unica fede avvolta dal mistero. Anche quella globalista turboliberista del foglio è pura cabala. Perché non c'è da preoccuparsi per il calo del PIL italiano, titolavano ieri. Nell'articolo ci spiegavano che c'era da aspettarselo, che è un dato congiunturale, e che l'economia italiana ha le papille gustative interrotte e il gomito che li fa contatto con il ginocchio. Ma soprattutto che l'obiettivo della tumultuosa crescita dell'1% forse sì, non è più tanto realistico, ma lo 0,8 invece sì, e che tutto sommato crescere dello 0,8 non sarebbe poi così male, soprattutto dal momento che la politica monetaria sta funzionando nel controllo dell'inflazione. Anche se famiglie e imprese la soffrono, ma d'altronde non c'è alternativa. Insomma, un'infilzata di putz... Galattiche, giustificata solo dal fatto che sanno benissimo che a parte io e Mario Monti il foglio non se lo legge più manco chi ci scrive. Ad attirare la mia attenzione comunque più che altro è stato quel numero, più 0,8%. È lo stesso numero che vi avevamo raccontato prima di andare qualche giorno a infilare i test... Per qualche giorno in qualche pozza marina. Allora il riferimento era alla crescita cinese, però nel secondo trimestre, dopo che nel primo era già cresciuta del 2,2, in perfetta linea, con l'obiettivo dichiarato di un bel più 5% per il 2023, anzi un po' sopra. E ricordate come aveva commentato il foglio? La Cina non cresce più, titolava il foglio stamattina, che poi commentava è arrivata anche in Cina la trappola dei paesi a medio reddito e concludeva il problema è che non è una democrazia, che è una frase buona per ogni circostanza. Fa caldo? Il problema è che la Cina non è una democrazia. Non sei andato di corpo stamattina? Oh, mi è scoppiata una maledetta vena! Il problema è che la Cina non è una democrazia. Da quel momento la storia psichedelica sulla Cina che non cresce perché non è una democrazia, nella redazione del foglio, deve essere diventata una specie di nuovo mantra. E l'interpretazione migliore non poteva che toccare a loro, la mecca web delle braccia rubate all'estrazione mineraria. Oh no! Oh no! Il ripetitore a cefano di ogni vaccata possibile e immaginabile partorita dai deliri liberaloidi del mainstream. Oh no! Oh no! La pagina di Ivan il minatore greco. Oh yeah! Oh yeah! Ospite d'onore, la punta di diamante della propaganda sinofoba del foglio, Giulia Pompili. Che un po', lo devo ammettere, in questa live ci ha spezzato il cuore. Nel nostro romanticismo devodei, infatti, siamo sempre alla ricerca del nemico da rispettare. E al netto degli sfondoni periodici tirati senza pudore per fare da ripetitore alle vaccate anticinese dell'intelligence USA e della sua fitta rete di finte ONG d'accatto, come nel caso della pagliacciata dell'allarme sulle centrali di polizia cinese in Italia scoppiata da orologeria nell'autunno scorso, un pochino la Pompili avevamo sperato rientrasse un po' in questo profilo, una spregiudicata nemica ideologica, ma alla fine una che sa il fatto suo, scoprire che la brutta copia di Maurizio Gasparri ci ha profondamente rattristito. Nella live in questione, infatti, dopo le solite manfrine un po' sconclusionate sull'aggressività militare cinese, a un certo punto viene introdotto un tema decisamente delicato, complesso e anche estremamente interessante, il calo della crescita della produttività cinese. Si tratta concretamente di uno degli aspetti più dibattuti tra l'elite accademica e politica del dragone, un dibattito che dovrebbe interessarci profondamente perché aiuta a chiarire vizi e virtù dal punto di vista dell'efficacia economica del socialismo con caratteristiche cinesi. È una tragedia, una tragedia preoccupante per la leadership del partito, esordisce convintissima la Pompili, peccato che nei minuti successivi poi riveli di non avere la minima idea di cosa si stia parlando. La Pompili, prima, sorprende tutti riconoscendo alla Cina la capacità di aver innalzato il tenore di vita della sua sconfinata popolazione. Pure troppo. Secondo la Pompili, infatti, il partito non è solo riuscito a far uscire i cinesi dalla povertà, ma addirittura a renderli proprio ricchi. 1,5 miliardi di ricchi che, come dice la Pompili, sono passati da avere una bici ad avere non una, ma addirittura due auto. Ma che dico due, ma facciamo tre. Un Pullman. Non lo sai Rick, parese falso. Fino a che però arriva la domanda di Rito, il meme più amato dai liberali confusi. At what cost? A quale prezzo? Un tormentone intramontabile. Come testimonia questo post pubblicato di nuovo qualche giorno fa sulla pagina di OK by La politica industriale cinese per l'eolico ha avuto successo, ma a quale prezzo? La Cina ha evitato il drammatico pedaggio tributato al covid dagli Stati Uniti, ma a quale prezzo? L'economia cinese si sta stabilizzando, ma a quale prezzo? E così via. All'infinito. Da decenni. In questa personale variazione sul tema, la Pompili va ammesso compie una piccola opera d'arte, anche se un po' situazionista. Secondo la Pompili, infatti, l'eccesso di volontà, di corsa economica, il sistema di capitalismo controllato e centralizzato, quindi il famoso miracolo del capitalismo che si unisce al socialismo, in realtà ha fallito. In base a cosa lo dice? Qui la cosa, in effetti, si complica un pochino. Da un lato, dice la Pompili, ci sono gli squilibri macroeconomici, che secondo la nostra giuria, consistono nel fatto che tu spendi più di quanto la gente effettivamente poi consuma, o che tu possa riassorbire. Non chiedetemi cosa significa, perché evidentemente a quella lezione di macroeconomia ero assente. L'unione di capitalismo e socialismo spende di più di quanto la gente effettivamente consumi. No, davvero, non ho idea di che misteri appunto della fede liberista. Ma non è tutto. Oltre all'aspetto macroeconomico, ci istruisce la Pompili, c'è anche l'aspetto psicologico, cioè della collettività sociale. Cioè della collettività sociale. Cioè, mi pare un po' una citazione di un film di Verdone. Il riferimento della Pompili è, non ho capito perché, alla legge sul figlio unico, che non c'è più ormai da parecchi annetti e non è proprio chiarissimo cosa centri con la produttività. Ma ciò nonostante, non ho capito bene attraverso quali voli pindarici, porta la Pompili direttamente al nuovo mantra del foglio. Può sembrare semplicistico ora dare la colpa alla mancanza di democrazia cinese, ammette la Pompili, ma è la cosa più immediata. Il punto, sostiene la Pompili, è che se uno ha un sistema di programmazione economica che fa schifo e tu ti impoverisci, la prima cosa che fai è che non lo voti alle prossime elezioni. Che è quello che succede appunto nelle democrazie liberali occidentali, davanti agli occhi di tutti. Berlusconi fa schifo? Ecco che lo rivoto. Rifà schifo? Ecco allora che voto Renzi e svolto. Poi Renzi mi delude? Ecco allora che voto la Meloni. E ciò all'Italia, appunto, locomotiva economica dell'Europa. In Cina invece no. In Cina, nonostante faccia schifo, gli tocca tenessi Xi Jinping a vita. Vorrebbero Giorgetti e la Fornero, ma invece gli tocca Xi Jinping. E quindi, sentenza Giulia l'economista, è proprio il sistema cinese che non funziona più. Ergo, continua la Pompili, l'idea che la Cina fosse questo grande caso di successo di un paese che redistribuisce la ricchezza e cresce, oggi possiamo dire che era una cazzata. E sapete perché? Perché ci spiega ancora Giulia, a un certo punto devi essere globalizzato. E vabbè. Ma non solo perché a fare la ricchezza, queste perle di saggezza una dietro l'altra, sono le persone. E se tu le hai massacrate a livello psicologico e queste persone non hanno più voglia di consumare e di essere felici, in effetti è un gran casino. E poi c'è chi prende in giro il compagno Antonio Razzi. Ora, a parte il ragionamento totalmente sconclusionato e cacofonico, una piccola nota di colore. Questo è l'ultimo Global Happiness Report redatto da Ipsos, il sondaggio periodico che viene fatto sul livello di felicità in 32 paesi diversi. Alla semplice domanda sei felice? In Italia hanno risposto molto abbastanza il 68% delle persone, appena due punti in meno che in Gran Bretagna e uno in più che in Germania. In Cina sono il 91%. È il record assoluto e sono 12 punti in più rispetto a 10 anni fa, quando il sondaggio è stato fatto per la prima volta. Di fronte alla domanda se erano soddisfatti della situazione del loro paese dal punto di vista sia economico che politico e sociale, hanno risposto affermativamente rispettivamente il 78% e l'83% dei cinesi. Negli USA siamo al 34% e al 35%, poco più che in Italia, dove siamo rispettivamente al 32% e al 34%. Nel Regno Unito siamo al 19% e al 27%. Noi ora cosa serve esattamente per essere felici ovviamente non lo sappiamo. Oh no, I hope I don't fall. Saldi, 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 quanti saldi! Ma sentire meno le vacate della pompilia di Van Greco e un po' di più la voce del 99% a nostro avviso potrebbe aiutare. Per farlo abbiamo bisogno di un vero e proprio nuovo media. Aiutaci a costruirlo, aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su Paypal e chi non aderisce è Giulia Pompili. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo.